C'è Renzi che punta il dito contro Giorgia Meloni e dice Tu mi hai atti a spiegare st'articolo di Sallusti se no ci hai in tribunale O perché via, qua la magistratura dice che non c'è niente, dice la magistratura, non c'è niente Vesce voi dite che è tutto vero, allora dove sta, dove è la verità? E no, e no, e no, no, qua si fa inchiesta parlamentare, io oltre a denunciare a Sallusti io fa inchiesta parlamentare, sapete? Eh, 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 un momento Renzi, a bestia a voi, denuncia Ma io ribadisco, ah ma a te, ma che c'è il tuo nome? Ribadisco sto concetto, va là, ma in quelle due pagine di Sallusti c'è sta il tuo nome, c'è sta Non mi sa di no, allora che vai a denunciare a fare? La giudice che fa due di picche Lei che c'entra, scusi A nome di chi denuncia? La Repubblica Italiana Ma lei che c'entra? Il nome suon do sta? Do l'è Do l'è Ma a parte questo, tutto vero quanto è successo all'A7 Padellaro praticamente fa le rivelazioni contro Renzi che c'è stava lui E gli dice devi confessare però, eh Adesso tocca a te il momento di confessa tutto all'Italia Sei qua, in diretta, prendi coscienza Prendi coscienza di questa cosa e confessa tutto al paese Visto che te vai a dire che va a denunciare a Sallusti, che vuoi un'inchiesta parlamentare Nei confronti delle meloni, eccetera, eccetera, eccetera Però tu sei il primo a dover dare delle spiegazioni In che senso? Mi fa Renzi Che già sapeva, con quel sorriso sorgnone E' un po' stressato Che cosa voleva intendere Padellaro? I suoi rapporti con i servizi segreti Lo ammetta davanti alle telecamere a tutto il paese Via Ammetta dei suoi rapporti con i servizi segreti Prima di tutto Lo ammetta Ma poi scusate una cosa Sta roba è del rapporto con i servizi segreti Che sia attuale o sia passato Ma Un presidente del consiglio come era lui o come dovrebbe essere Deve avere rapporti con i servizi segreti dell'estrema sicurezza del paese O sbaglio Quindi Anche qua, signor Padellaro Che punta il dito a fare su una cosa che deve essere così Se sei presidente del consiglio e devi sapere tutto Devi sapere tutto anche dei servizi segreti O è solamente fantascienza O è solamente fantascienza O è vivo in un film di spionaggio Che deve ammettere e confessare Ditemi la vostra commenta Grazie a tutti